Quando fantastichi, hai presente quando fantastichi? Quando ti parte l'immaginazione, ti immagini una realtà diversa, magari il partner diverso, ti immagini una famiglia diversa, un lavoro diverso, ti immagini diverso nello sport, in amicizia, ti immagini diverso in qualche situazione, ok? Ecco, ti immagini diverso. E fantastichi, parte la fantasia e tu inizi a fantasticare di essere come vorresti essere, come ti piacerebbe essere e provi delle belle sensazioni, e siccome la tua fantasia ogni tanto la esageri un po', ci metti un po' della Marvel, ecco. Ma fondamentalmente, tolta la fumettistica, quello che resta è ciò che tu vorresti essere in certe situazioni. E questo è un aspetto molto importante, è come vorresti che quella situazione fosse. Quindi quella fantasia ti sta dicendo, guarda, tu desideri questo, e che cosa desideri? Magari desidero esprimere me stesso, magari desidero essere più indipendente, magari desidero essere più deciso, ecco, allora dovresti cominciare a capire questo messaggio della tua fantasia e chiederti ogni volta che fai quel tipo di fantasia, come posso essere più deciso, come posso esprimere me stesso, come posso essere più indipendente, cosa devo fare per essere più indipendente, cosa devo fare per esprimere di più me stesso, cosa devo fare per essere più deciso? e tradurre la risposta in comportamenti, piccoli comportamenti, non grandi comportamenti, piccoli, piccoli comportamenti che puoi attuare subito. Ecco, questo è il modo con il quale gestire le fantasie, quindi puoi guardarti questa parte di video altre 50 volte e questo è il modo con il quale gestire quelle fantasie. Cosa fai di solito? Nella realtà di fatti di solito continui a fantasticare, ti convinci che quella è la realtà e che nella realtà, nascosta da qualche parte, ecco, se lucidi bene, spolveri bene, esce fuori, esce fuori quella tua fantasia. Quindi di fatti ti comporti in relazione alla fantasia, non in relazione alla realtà. Quindi vivi nel tuo mondo immaginario, nel tuo metaverso, non c'era bisogno che lo inventassero, vero? Ce lo avevi già. Ecco, e funziona benissimo, e stai lì nel tuo metaverso personale, anziché affrontare le questioni reali. E questo cosa porta? Porta a sprecare tanto tempo. Tempo, tempo di vita, tempo che poi non torna più indietro, strappi le ore alle lancette del tuo orologio. Magari commettendo anche l'errore orribile di incolpare gli altri di questo. Quindi, pensandoti pure come vittima e pensando pure di non poterci fare niente. Stai attento a questo, stai molto attento, perché quel tempo davvero non torna indietro. Ok? Grazie a tutti.